Ben trovati dalla redazione aquilana del Tg di TV6, l'Aquila in primo piano oggi la cronaca sindacale, caffè patronati in rivolta contro i tagli del governo, CGL e CISL e Will hanno infatti organizzato una manifestazione di protesta all'Aquila fuori il palazzo della prefettura contro i tagli del governo che renderà impossibile garantire servizi gratuiti di assistenza fiscale e previdenziale, tutti i particolari nel servizio di Filippo Tronca. Si sta smantellando uno stato sociale perché noi non abbiamo una clientela di altissimo livello, abbiamo persone che hanno bisogno di risolvere dei problemi. Chiediamo di eliminare questi tagli perché non è più accettabile far fronte a tutte le richieste. Basta tagli dal governo, l'assistenza fiscale e previdenziale garantita gratuitamente da caffè patronati gestiti dai sindacati sono un servizio essenziale per milioni di lavoratori, pensionati e disoccupati che un commercialista non possono permetterselo. Questo chiedono CGL e CISL e Will che hanno oggi presidiato il palazzo della prefettura all'Aquila. Anche per il 2016 nel patto di stabilità sono previsti infatti interventi di riduzione sul fondo dei patronati per 28 milioni di euro e sul fondo per i compensi e caff per 40 milioni per il 2016 e ulteriori tagli da 70 milioni per il 2017 e 2018 per arrivare al salasso finale nel 2019 con un taglio di 100 milioni di euro. Un incomprensibile attacco che avrà effetti devastanti anche in Abruzzo denunciano fuori il palazzo del governo i sindacati che sarà pagato dai cittadini e anche da centinaia di dipendenti che operano negli uffici dedicati. Noi già adesso abbiamo dovuto ridurre, e io parlo come CGL, di un paio di persone su quattro però il problema è che noi lavoriamo molto anche con il volontariato per cui riusciamo, non dico a sopperire del tutto a queste problematiche siamo in enorme difficoltà per affornire il servizio ai cittadini. Non è ammissibile che vengano fatti questi tagli perché il nostro patronato è gratuito e oltretutto in questo modo si andrebbero a eliminare tanti posti di lavoro. E ancora sindacati, donazioni post-sisma, Confindustria, CGL, CISL e UIL tracciano un bilancio delle donazioni arrivate in sostegno delle popolazioni colpite dal sisma 2009 utilizzate proprio per rilanciare il settore economico e del lavoro. Circa 15 milioni di investimento, di cui più di 7 donati dai lavoratori di tutta Italia e relative imprese di appartenenza e quasi 8 cofinanziati dagli 8 soggetti beneficiari. Il Comitato Abruzzo chiude il bilancio sul fondo sisma facendo una ricognizione sui dati più evidenti ma anche snocciolando quelli intermedi passati costantemente al monitoraggio al servizio helpdesk. Il programma trae origine dalla volontà di Confindustria, CGL, CISL e UIL di sostenere concretamente le popolazioni colpite dal sisma del 2009 attraverso la costituzione di un fondo frutto della generosità dei lavoratori e delle imprese di tutta Italia a tre anni di distanza dalla partenza dei singoli progetti è arrivato il momento di verificare la coincidenza tra le aspettative e gli obiettivi raggiunti ha spiegato il Presidente del Comitato di Promozione del Fondo Locale, Fabio Spinosa Pingue volevamo offrire opportunità di ricostruzione sociale e professionale l'ultima pennellata al nostro territorio evidenzia colori di resilienza, capacità di immaginare, volontà di realizzare. Il cofinanziamento degli otto macro progetti, aggiunto il segretario provinciale della CGL e componente del Comitato Locale, Umberto Trasatti, ha consentito la creazione di nuovi posti di lavoro sopra ogni cosa ha consentito la creazione di opportunità reali di competenze nuove che oggi sono spendibili su questo territorio le nuove opportunità occupazionali hanno riguardato circa 300 persone tra dipendenti, collaboratori e dirigenti delle 135 società, poli e reti d'impresa, istituti di formazione, liberi professionisti direttamente coinvolti nella gestione e implementazione delle attività progettuali 180.000 le ore di lavoro totali La prossima notizia ci porta Campo Imperatore si scia nel weekend questo è l'annuncio dell'amministratore del centro turistico del Gran Sasso oggi in commissione al comune dell'Aquila fondi per la manutenzione degli impianti di risalita alla vigilia dell'inizio della stagione turistica Weekend con gli sci anche negli impianti di Campo Imperatore conferma l'amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso Fulvio Vincenzo Giuliani Ed è già una notizia, visti i ritardi degli anni passati e le polemiche sul destino della stazione scistica tra debiti della società, difficoltà a finanziare gli investimenti da 40 milioni di euro già disponibili lo scontro al calor bianco tra il partito della tutela ambientale e quello che vorrebbe eliminare i vincoli che ostacolano lo sviluppo infrastrutturale dell'impianto In questo momento c'è l'urgenza di aprire siamo riusciti ad aprire da sabato e domenica gli impianti saranno aperti la gestione degli impianti rientra nella normalità e anche noi, così come le altre stazioni siamo in condizione di far sciare chi vorrà nel fine settimana con la differenza che qui però la neve è naturale Oggi in commissione al Comune dell'Acoli è stato intanto formalizzato lo stanziamento da 120 mila euro per la manutenzione della seggiovia Fonta di Campo Imperatore e della seggiovia Scindarella E a proposito della Scindarella Giuliani conferma che la società in audizione alla commissione via della regione ha proposto di sostituirla a lungo lo stesso tracciato Non è che la via ha bocciato la Scindarella siamo stati noi che in audizione abbiamo chiesto rispettando la volontà espressa da molti la costruzione del nuovo impianto delle fondari sul vecchio tracciato quindi in realtà il progetto di sostituzione letterale così come è stato richiesto e noi abbiamo consentito di fatto continua l'abbiamo espresso tenendo conto proprio del parere dell'opinione pubblica di alcune posizioni molto forti che consideravano l'allungamento della seggiovia una devastazione ulteriore di quell'area abbiamo considerato queste posizioni e ci siamo in qualche modo non dico adeguati ma ne abbiamo fatto tesoro riproponendo la soluzione di quella di quell'impianto in una forma che in qualche modo è approvata da tutti l'anagrafe dell'aquila si adegua agli standard nazionali introducendo un nuovo software in grado di aggiornare e rendere più performanti i servizi al cittadino il sindaco dell'aquila Massimo Cialente annuncia una vera rivoluzione del database il servizio è di Miusha Riocci parte anche all'aquila la rivoluzione dell'anagrafe con l'obiettivo di migliorare i servizi aumentare il livello di sicurezza e adeguarsi agli standard nazionali questa operazione secondo me è smart Italy nel senso che da adesso le anagrafe di tutti i comuni d'Italia saranno collegate fra loro attraverso un cervellone nazionale per cui quello che oggi richiede una serie di passaggi procedure che spesso spiega anche questa difficoltà a sapere dove sono tanti italiani in questo momento noi abbiamo perso di vista molti aquilani invece adesso avverrà in tempo reale gli uffici dell'anagrafe resteranno dunque chiusi dal 7 all'11 dicembre per adempiere alle operazioni necessarie alla gestione delle pratiche sul nuovo software riprendendo regolarmente l'attività il 14 dicembre se lei va all'anagrafe a registrarsi dicendo io prendo la residenza qui io prendo domicilio qui in tempo reale il comune dal quale lei proviene sarà avvisato questo permetterà di avere un assoluto aggiornamento continuo della situazione in effetti del paese i servizi essenziali per i cittadini aquilani saranno comunque garantiti i residenti che hanno bisogno urgente del rilascio delle carte d'identità potranno rivolgersi ai comuni di Torniparte San Teosanio Fossa San Demetrio Pizzoli Poggio Picenze Scoppito Noi il 9 siamo stati chiamati a Roma perché anche la professione civile è stata cercando di capire come creare una rete per cui noi dobbiamo utilizzare i mezzi di oggi per rendere più facilmente raggiungibili i cittadini e anche per stare più vicini ai cittadini Sanità Ginecologia il professor Gaspare Carta primario del reparto di ginecologia al reparto San Salvatore dell'Aquila è l'unico europeo quindi l'unico professore medico europeo ad aver partecipato alla convention in Cina che ha aperto proprio i lavori con l'eccellenza aquilana Davanti a un costesso di 500 specialisti cinesi ai più alti livelli c'era solo l'Aquila a rappresentare l'Europa con lo standardo della ginecologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila Asceneanga nella lontana Manciuria a 600 chilometri da Pechino al congresso nazionale di uro ginecologia cinese ai rappresentanti del presidio aquilano è stato persino riservato il privilegio di aprire l'assemblea plenaria degli specialisti dagli occhi a mandorla della specifica branca in un paese esterminato dal numero esponenziale di nascite e con reparti che superano la soia di 10.000 parti l'anno i dominus cinesi dell'uro ginecologia hanno riservato il massimo dell'attenzione all'Alezio Magistralis del professor Gaspare Carta in cui si parlava di una nuova tecnica sul recupero dell'utero in casi molto gravi di prolasso Carta direttore di ostetricia e ginecologia dell'Aquila invitato a tenere l'Alezio Magistralis a tenuto l'overture dell'assemblea con un intervento durato 40 minuti sviluppato rigorosamente in inglese contraddistindo dalle domande dell'uditorio e dalle relative risposte del primario l'Alezio Magistralis è stata accompagnata dalla proiezione di una doppia diapositiva una con didascalia in inglese e l'altra nella lingua locale mentre un interprete ha tradotto dall'inglese al cinese tutta l'esposizione di carta sull'argomento gli organizzatori del congresso peraltro si erano procurati con largo anticipo per esaminarle e tradurle al meglio le diapositive sull'intervento del responsabile del reparto aquilano unico specialista europeo invitato ai lavori nazionali cinesi carta una lunga e apprezzata esperienza professionale dal prossimo anno assumerà la carica di presidente nazionale dell'IUG l'associazione italiana urologia ginecologica il reparto di ostetricia e ginecologia dell'Aquila tra l'altro offre in Abruzzo servizi di nicchia come il parto in acqua che a distanza di oltre un anno fa registrare l'alto gradimento delle partorienti andiamo a Pescasseroli dove complessivamente nel 2015 risultano nati in tutto un numero minimo certo di sei cuccioli di orso marzicano di cui quattro osservati ancora nel mese di settembre e in cattività è questo il risultato della conta cumulativa delle femmine con piccoli dell'anno realizzata nei mesi scorsi nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise con i senati quest'anno il totale dei nuovi arrivati e avvistati con la stessa metodologia dal 2006 al 2014 sale dunque a 70 invece in sede di conferenza dei servizi convocata dalla direzione sviluppo economia e turismo della regione Abruzzo le camere di commercio di Chieti L'Aquila Pescara e Teramo hanno determinato i periodi per le vendite di fine stagione relativi all'anno 2016 dunque per i saldi invernali si parte il 5 gennaio anche all'Aquila partono invece dal 2 luglio i saldi estivi che andranno avanti fino al 30 agosto 2016 bene con questa notizia termina il TG TV6 L'Aquila io vi ringrazio per la consulata e cortese attenzione vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TV6 buon proseguimento di TV6